Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio sulla A1. A causa di un incidente è chiuso il tratto tra Valdarno e Arezzo in entrambe le direzioni con 7 km di coda in direzione Roma e 3 km di coda in direzione Bologna. Per lavori fino al 28 febbraio è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. Sulla Fipilì per incidente è in direzione Mare chiusa l'entrata di Empoli Ovest e ci sono in direzione Firenze code tra Empoli Ovest ed Empoli. Fino al 28 febbraio per lavori al viadotto Stagno chiusura della carreggiata all'altezza del km 76 nel ramo di Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!